5 comandamenti, 5 regole che governano la mia vita. Mangiare bene, naturale, mediterraneo, essendo di forchetta buona e buon salentino. Passare almeno un giorno alla settimana in mezzo alla natura nella mia casa di campagna, perché è fondamentale, lavorare poco e di qualità, lavorare tanto e disperdersi, ma non perché non voglio lavorare, proprio lavorare sempre con una certa, con un certo modo di pensare il lavoro in grande qualità. E ne mancano due, ne mancano due. Questo si può dire fare l'amore, che è importante, che è una cosa bellissima. E il quinto, il quinto, portare a passaggio mia figlia, almeno, almeno tre volte alla settimana quando sono presenti a casa, spesso viaggio, andare al cinema, al teatro e imparare da lei, perché i bambini mi insegnano un sacco di cose. Il quinto, portare a passaggio di un'amore, che è un'amore, che è un'amore.